Il presidio ospedaliero dell'area Vestina avrà i suoi lavori di ristrutturazione attesi da più di un decennio. L'opera, dal valore complessivo di 13 milioni e mezzo di euro, come annunciato in conferenza stampa, partirà ad aprile 2021, mese che precede le amministrative del comune di Penne. Il cantiere interesserà due delle tre palazzine che compongono il San Massimo, con un nuovo pronto soccorso e lo spostamento nelle vicinanze della radiologia e della sala Gessi. Altri interventi riguarderanno la farmacia, la dialisi, che vedrà triplicati i suoi spazi, il deospital oncologico, gli ambulatori di cardiologia e neurologia. Novità anche per il blocco operatorio, che si avvarrà di tre nuove sale. All'interno di tutto questo sono state annunciate nuove assunzioni per la gestione di 26 discipline, di cui potrà disporre il nuovo San Massimo. Verrà ristrutturata buona parte dell'ospedale, dove saranno ricavati nuovi posti letto, molti di più dei 40 previsti come ospedale di area disagiata e insieme a questo assunzioni di personale, nuovi primari, nuovi dirigenti medici, nuovi radiologi, nuovi infermieri che daranno a questo ospedale la linfa che serve per offrire un servizio sanitario all'altezza dei bisogni dei cittadini. In atto ci sono nuovi negoziati per il reclutamento di altri 25 milioni di euro per l'edilizia sanitaria e per quella sismica. Intanto la regione Abruzzo ha espressamente chiesto ai tecnici di non fermare le prestazioni all'utenza durante il periodo dei lavori. L'ospedale non perderà le sue funzioni, è quello che abbiamo chiesto ai tecnici, ma soprattutto è stato anche un ospedale molto attento nella prima fase del covid e anche oggi, quindi che ha saputo gestire un'emergenza con professionalità e umanità e quello che io ho sempre chiesto è che non vengano assolutamente trascurate, tralasciate tutte quelle attività, tutte quelle prestazioni sanitarie che non sono relative al covid. A questo punto l'obiettivo deve essere uno, cioè far tornare il San Massimo ospedale di base con sede di pronto soccorso. Ad esprimere soddisfazione in maniera sarcastica il PD di Penne. In una nota inviata dal segretario cittadino Andrea Vecchiotti dichiara come oggi non si è fatto null'altro che proseguire il lavoro per il quale lo stesso PD si è impegnato negli anni scorsi. I finanziamenti che oggi provano ad intestarsi sono il frutto dell'impegno profuso dal senatore Luciano D'Alfonso, da Paolucci e dal PD Tutto, senza che il centrodestra abbia mai fatto nulla per questo risultato, se non accomodarsi ad una tavola già apparecchiata.